Cari amici bianconeri, ciao da Simone Absin, Juventus-Barcellona 0-0 e quindi per l'ennesima volta andiamo a giocarci la qualificazione agli ottavi all'ultima partita del girone fuori casa. Io non sono soddisfatto chiaramente di questa situazione di classifica, di questa situazione della Juventus in Champions. Posso dirmi in certi termini soddisfatto della partita della Juventus ieri contro il Barcellona e volendo anche del risultato perché comunque pareggiare 0-0 contro una squadra forte, non è tanto più forte della Juventus ma sicuramente più in forma in questo momento, è un buon risultato. Ma quello che non mi va bene assolutamente è di non aver fatto quel gol che mancava contro lo Sporting nella partita di ritorno che ci avrebbe qualificato agli ottavi con due partite di anticipo alla quarta partita del girone, ci avrebbe consentito di giocarcela più a viso aperto contro il Barcellona addirittura puntando al primo posto in classifica e comunque ci avrebbe sgravato da qualsiasi honor e responsabilità nell'ultima partita in Grecia contro l'Olympiakos che tra l'altro, ricordo, verrà dopo la partita con il Napoli che pure dovrà giocarsi la qualificazione degli ottavi in contemporanea con noi in Olanda contro il Feyenoord e prima però della nostra partita contro l'Inter che sicuramente non dovrà giocarsi la qualificazione degli ottavi di Champions. Quindi è una situazione che non va bene, ieri analizzando la partita ho visto comunque una Juventus più che buona nel primo tempo nel senso che abbiamo anche attaccato abbastanza bene però sono venuti meno alcuni giocatori nella fase finale, nella fase decisiva io quello che ancora contesto ad Allegri è il fatto di ostinarsi a far terminare l'azione offensiva tra i piedi di Quadrado Quadrado è sempre quello che riceve per ultimo, c'è lo scarico di Dybala, il passaggio di Pjanic, il cambio di gioco di Alex Sandro, tutti quanti su di lui e poi è lui che deve prendere la decisione più importante e passare il pallone decisivo per la finalizzazione. Questo non mi sta bene perché Quadrado è quello che sbaglia più palloni in quella fase lì, sbaglia sistematicamente la scelta infatti ieri o crossava frettolosamente dalla linea laterale sulla tre quarti e ovviamente i cross erano sbagliati oppure quando invece si trovava più a ridosso dell'area di rigore faceva il passaggio sbagliato e comunque non arrivavamo a concludere degnamente l'azione e quindi tra i peggiori metto Quadrado, tra i peggiori metto Chedira che è praticamente stato in confusione totale, è stato troppo alto anche ieri non ha dato una grossa mano a difendere Anzi ma soprattutto non è stato assolutamente incisivo nella fase offensiva cioè è stato solo in proiezione offensiva ma una proiezione inutile a tratti da Nusa perché ha sprecato anche lui alcuni palloni. Barzagli nel primo tempo non mi è piaciuto perché è sembrato un fantasma nel secondo tempo meglio da un punto di vista della copertura e dei sincronismi difensivi però non ha spinto assolutamente nulla e c'era bisogno di qualcuno che spingesse sulla fascia destra nel finale infatti abbiamo avuto la conferma visto che non abbiamo mai giocato ieri veramente con una difesa a tre se non appunto perché Alex Sandro saliva non c'era assolutamente bisogno di giocare con Barzagli poteva tranquillamente giocare De Sciglio e quella sarebbe stata la scelta giusta quindi errore da questo punto di vista da parte di Allegri così come ha sbagliato assolutamente tutti i cambi togliere Douglas Costa per mettere Matuidi non ha assolutamente senso soprattutto se lasci in campo quel Chedira quel Chedira veramente in pessime condizioni bene sostituire Quadrado ma per Marchisio io Marchisio l'avrei messo a titolare però a un certo punto nel finale ci siamo trovati praticamente con Marchisio Bentancur, Chedira e Matuidi cioè quattro centrocampisti centrali a tutta linea orizzontale praticamente con Marchisio esterno destro e Matuidi esterno sinistro credo che Marchisio non giocasse esterno destro di centrocampo dalla primavera forse neanche lì quindi comunque sperimentazioni sperimentazioni che non si giustificano in una partita in cui devi comunque cercare di fare un gol per vincere perché non dimentichiamo che noi ieri sì va bene il pareggio va bene siamo secondi nel girone va bene abbiamo comunque un punto in più che ci dà una certa tranquillità rispetto allo Sporting ma dovevamo vincere era quello l'obiettivo perché dovevamo qualificarci agli ottavi e non abbiamo fatto tutto il possibile sicuramente non l'abbiamo fatto tutto il possibile per vincere abbiamo fatto una parte del possibile questi erano secondo me i peggiori insieme a questi che quindi ho detto quadrato che dira un pochino barzagli metto anche Alex Sandro perché Alex Sandro anche ieri ha fatto una partita anonima una partita insufficiente troppi errori errori sia nel ricevere palla sia nel dare pallone sia nel posizionarsi e comunque anche nel duettare con Douglas Costa Douglas Costa che invece ha fatto un'ottima partita ma è stato fuori dal gioco per tutta la partita è sempre il solito difetto perché non avendo noi un gioco offensivo ben bilanciato una proiezione offensiva degna di quello che deve essere il nostro risultato finale ma invece abbiamo una proiezione offensiva degna di chi difende lo 0-0 ed è quello che abbiamo fatto ieri Douglas Costa chiaramente viene tagliato fuori così come è stato tagliato fuori dal gioco Higuain al quale però non do assolutamente un voto negativo Higuain ha giocato pochissimo ieri ha fatto un solo contrasto e zero tiri in porta ma non è colpa sua perché anzi finalmente Higuain ieri grazie alla presenza di Douglas Costa trequartista che occupava di più la zona centrale è stato avanzato ha giocato penso 20 metri più avanti del solito e questo non può che farci piacere il problema è che non gli sono arrivati i palloni se gli fossero arrivati i palloni probabilmente avremmo vinto perché Higuain credo che fosse in serata come lo è stato in tutte queste ultime partite passiamo ai migliori il migliori in campo senza alcun dubbio è Benatia Benatia ieri ha fatto il 97% di precisione nei passaggi 97% di precisione nei passaggi e non solo questo ha praticamente vinto tutti i contrasti ha fatto un sacco di intercetti è stato veramente una partita straordinaria di me di Benatia a conferma di quello che dicevo che bisognava utilizzarlo in queste partite bisognava utilizzarlo anche a Genova perché sta benissimo e comunque è uno dei nostri due migliori difensori sicuramente come è stato di forma in questo momento l'altro forse è Chiellini però come rendimento io mi affiderei comunque di più a Rugani che ieri non ha fatto un'ottima partita forse ha subito un pochino la pressione ma comunque ha giocato bene non gli si può dire praticamente nulla ha sbagliato l'impostazione ma non è lui che deve impostare da dietro scusate e altro ottima prestazione è quella di Tibala Tibala è stato molto grintoso molto determinato molto voleteroso voleva sicuramente vincere a meritato di vincere e di fare gol soprattutto nel finale quando ha impegnato Ter Stegen in quel modo molto ci è rimasto un po' l'amaro perché lì poteva veramente entrare il pallone non so se sarebbe stato meritato che vincessimo in quel modo ma di Bala se l'è meritato ha conferma del fatto dispetto di quello che dicono alcuni ha conferma del fatto che di Bala nelle partite importanti si esalta perché vuole dimostrare la sua forza la sua qualità qualità e forza sicuramente indiscutibili ripeto poi per i cambi veramente non ci siamo perché a quel punto bisognava inserire bisognava lasciare Douglas Costa potevi anche farne solo due di cambi mettere Marchisio sì ma al posto di Chetira lasciare assolutamente Pjanic in campo perché comunque il cambio con Bentancur è servito quasi a nulla e togliere Barzagli per mettere Desciglio per dare un pochino di spinta in più sulla destra quindi io avrei praticamente messo solo Desciglio per Barzagli e Marchisio per Chetira stop non aveva fatto altri cambi e comunque non abbiamo veramente provato a vincere questa partita questa Juventus secondo me paga le pessime prestazioni delle partite recenti perché si vede chiaramente che in attacco siamo andati ieri ad improvvisare c'era un'improvvisazione offensiva nel senso che quando ci siamo trovati a poter attaccare non sapevamo esattamente che cosa fare ci sentiamo un po' spaisati perché non siamo abituati a trovarci ad attaccare in quel modo ieri il Barcellona ci ha lasciato più spazi perché comunque non è una squadra difensivista non è una squadra che si chiude dietro che si stringe dietro come facciamo noi o come fanno tante squadre di Serie A è una squadra che resta comunque alta e larga e quindi ci ha permesso di inserirci ma ci siamo ripeto trovati spaisati quando abbiamo avuto l'opportunità di attaccare non c'era un vero e proprio sistema di gioco non c'era un vero e proprio sistema per arrivare a tirare in porta infatti abbiamo tirato praticamente mai quindi questa Juventus deve crescere su questo e sinceramente non credo che crescerà perché a sentire le parole di Massimiliano Allegri dopo la partita credo che lui sia convinto che la Juventus stia andando molto meglio di quanto non pensiamo noi di quanto non pensi io infatti ha detto che stiamo giocando praticamente sempre bene anche contro la Sampdoria il problema è sempre che subiamo troppo subiamo troppo quindi in ambiente interno lo spogliatoio tra senatori e allenatore c'è soddisfazione per la partita di ieri soprattutto per non aver preso gol e a me questa cosa non può assolutamente lasciare soddisfatto non mi può assolutamente lasciare soddisfatto questa cosa perché non mi interessa non prendere gol mi interessa vincere allora se per vincere dobbiamo prendere due gol prendiamoli però andiamo ad attaccare e vinciamo 3-4-2 perché quello che conta in questo caso sono i tre punti e non li abbiamo fatti neanche questa volta quindi se parliamo di risultati veramente non ci siamo mi aspetto ancora una volta di più da questa squadra non sono soddisfatto possiamo fare sicuramente meglio adesso sarà molto difficile qualificarci agli ottavi confido che lo faremo perché Allegri lo ha sempre fatto con tutte le sue squadre e perché la Juventus deve assolutamente è assolutamente una squadra che può arrivare agli ottavi poi magari possiamo anche uscire agli ottavi vedremo ci sarà bisogno di tutta un'altra Juve da febbraio in avanti altrimenti possiamo tranquillamente uscire agli ottavi ma comunque dobbiamo arrivarci perché è il nostro destino stare lì e la nostra deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo raggiungerlo vi saluto con questo video commento di Juventus Barcellona 0 a 0 vi ricordo di iscrivervi al mio canale lasciatemi i vostri commenti per dirmi se ho detto fesseria o se comunque siete d'accordo con me come la pensate seguitemi su Twitter Simone Absim cliccate mi piace alla mia pagina Facebook Simone Absim Juve e partecipate al gruppo Facebook Colpo Gobbo e Simone Absim Juventus Fan Group in cui parliamo davvero di Juventus e sempre forza Juve grazie a tutti